Questo è un governo di servizio agli italiani che pretendono giustamente risposte concrete. Parla così il ministro del lavoro Giovannini, ospite ad otto e mezzo. Poche ore prima, nell'audizione alla Camera, Giovannini aveva annunciato l'approvazione, entro giugno, di un pacchetto articolato di misure per l'occupazione giovanile, basato su un mix di politiche nazionali ed europee. Stiamo lavorando con l'Ox sulle buone pratiche internazionali, ha spiegato il ministro, per escludere le spese per favorire l'impiego dal rispetto dei parametri del patto di stabilità su deficit e prodotto interno lordo, o almeno, dato che il problema è condiviso, di tenerne conto al momento della valutazione dei risultati. L'azione per fronteggiare la mancanza di nuovi posti di lavoro si avvarrà prima di tutto delle risorse comunitarie. Per l'Italia 400 milioni, dei 6 miliardi, destinati dal piano europeo Garanzia Giovani all'offerta di un impiego o di un percorso di formazione. Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno potrebbe quindi portare buone notizie. Ma sono anche altri i temi scottanti sul tavolo dell'esecutivo Letta. La Cassa Integrazione in deroga, spiega Giovannini, va rivista e non deve essere usata per le persone che hanno perso definitivamente il lavoro. Il decreto sulla Cassa Integrazione guadagni sarà nel Consiglio dei Ministri di domani, che ne sta ancora valutando le coperture. La spesa pensionistica in Italia è molto elevata, circa il 15% del prodotto interno lordo. La riforma Fornero ha creato tensioni legate allo spostamento in avanti del tempo di uscita dal lavoro. Saranno verificati i coefficienti di penalizzazione da combinare a chi decide di andare in pensione prima del tempo.